5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a tanti luoghi e tante avventure che comunque avvengono con diverse possibili letture di queste avventure che succedono ad Ali. Appunto è la storia di Ali, Ali è suo fratello. Siamo a Kabul negli anni 90, metà degli anni 90. L'Afghanistan è un paese che da 15 anni vive in uno stato di guerra terribile, per dieci anni subisce la guerra contro l'Unione Sovietica, poi ci sono anni di caos, sostanzialmente guerre di bande, non si capisce chi sta vincendo, non si capisce chi sta occupando cosa, i talebani stanno premendo per riuscire a occupare la città di Kabul, che si trova in una situazione spettrale, non c'è acqua corrente, non c'è la luce, non c'è niente. In questa situazione, per quanto possa sembrare strano, un ragazzo come Ali è un ragazzo di 8 anni, che comunque conduce una vita a modo suo normale, va a scuola, nonostante la scuola sia un luogo in cui viene messo un tronco sul terreno, perché la scuola è stata distrutta, per cui gli studenti stanno seduti su un tronco, l'insegnante è un insegnante normale, nonostante sia armato per tutta una serie di ragioni, e in questa situazione di strano mescolanza fra normalità e non normalità, Ali è un ragazzo che sta tornando a casa, per tornare dai suoi genitori, perché è finita la scuola e comincia il suo pomeriggio. Buonasera, sono felice di essere qui a condividere questa vera storia. Quando avevo 8 anni, un giorno sono tornato da scuola, pensavo che ho sbagliato a casa, sono entrato dentro questa via e ho visto una mucca di macerie, la casa è tutta distrutta, io pensavo che mi sono sbagliato, mi sono seduto e là, pensavo che magari qualcuno verrà a trovarmi se ho perso. Ho trovato anche un pacchetto di sigarette per strada, facevo finta di fumare, tiravo fuori questo pacchetto di sigarette di tasca, facevo finta di fumare, mi sentivo come se fossero le persone che fumano sentono una persona molto grande. A un certo punto vedo che mio fratello, vedo che piange, per prima volta io vedo che mio fratello piangeva, quindi viene verso di me, mi abbraccia, ho chiesto perché piange, mio fratello dice, non vedi, non vedi che cosa è successo, la casa è distrutta, io non immaginavo che mamma e papà sono morti. Quindi lui mi solleva, mi abbraccia, porta da casa di questo mio amico Ahmed, un mio migliore amico di scuola, con cui io mi fidavo, condividevo tutto, siamo andati a casa sua, quindi di là i suoi genitori hanno aiutato a me e a mio fratello, per accogliere per qualche giorno. Quindi di là è partita la nostra grande avventura da solo, che mio fratello aveva 17 anni, siamo dovuti partire dall'Afghanistan, lasciare l'Afghanistan anche per colpa di guerra, perché situazione drammatica era. Siamo partiti sul pulmino, che è attraversando dall'Afghanistan verso Pakistan, però mezzo di strada tutto era, posto di blocco e dei talibani, quindi anche dentro l'Afghanistan io mi sentivo come uno straniero, quindi mi hanno legato sopra questo camion per partire da nascosto, per non vedere i talibani. Si vedeva che, perché io sono il Turkmeno, si vedeva che il Turkmeno o altre razze facevano scendere, portavano o ammazzavano o portavano a guerra. Quindi di là che siamo partiti, è un viaggio che è durato 5 anni, attraversando Pakistan, l'Iran, Turchia, e mio fratello è morto in Turchia. Quindi della Turchia ho dovuto affrontare questa drammatica storia da solo, questa vita difficile da solo, attraversando Turchia e la Grecia, dalla Grecia sotto camion, come clandestino sono venuto in Italia, del Dume de Tre. Quindi è una storia che a volte sempre io ho pensato, che bisogna essere forte nella vita, e sollevarsi dalla vita che ci pone. Quello che succede a un certo punto è sostanzialmente, passano 5 anni, alla fine di questi 5 anni lui si ritrova a Patrasso da solo, perché purtroppo suo fratello, quando sono a Istanbul e stanno pensando come raggiungere l'Europa, cerca di portarsi avanti, lui dice, non ti preoccupare Alì, parto io con un barcone di plastica, sostanzialmente con un gommone, arrivo dall'altra parte, guadagno abbastanza soldi per poterti dare la possibilità di venire in Europa con dei mezzi molto meno rischiosi, con una possibilità di viaggiare che non metta così tanto a rischio la tua vita, però purtroppo suo fratello non ce la fa, quindi lui rimane da solo a Istanbul, a Istanbul non ha nessuno, perché l'unica persona, l'unico contatto che ha è questa famiglia di turchi presso il quale il fratello ha lavorato, che capisce la sua situazione, capisce anche che Alì è un ragazzo buono, di cui ci si può affidare, un ragazzo affidabile, quindi lo prendono in casa loro e lo tengono alcuni mesi, come un figlio, lo fanno stare assieme ai loro figli, gli danno una casa e capiscono però comunque che lui in qualche modo da lì deve andarsene, perché il problema di tutti questi ragazzi, adesso sono principalmente siriani, ma all'epoca di Alì erano principalmente afghani, è il fatto che non ci sono dei diritti per queste persone fuori dalla possibilità di essere riconosciuti come rifugiati politici, quindi sostanzialmente lui se fosse rimasto in Turchia sarebbe rimasto tutta la vita un clandestino, quindi cosa succede? Nonostante abbia 12 anni, decide di partire, di rifare lo stesso viaggio che ha affrontato il fratello, arriva in Grecia e poi dalla Grecia a Patrasso si imbarca. Cosa succede? Si imbarca, ovviamente si deve imbarcare in maniera clandestina e come dice Alì, io l'Italia la prima volta l'ho vista capovolta. Si perché è la prima volta che mi sono infilato sotto camion da Patrasso che è durata questo viaggio 15 ore. In 15 ore senza mangiare, senza bere sotto camion, quindi ovviamente il sangue non circolava, quindi non riuscivo a muovermi. Quando è sbarcato a Dancona, io stavo sotto camion, c'era un cane che sempre passava vicino a me e abbagliava, quindi io mi sono avuto paura, dicevo no, vattene, vattene. A un certo punto sento che il camionista entra vicino al suo camion e fischia, io pensavo che fischia qualche cane, quindi qualcuno ha perso di nuovo il cane, perché mi ha visto questo camionista con la torcia, mette sotto il camion, mi fischia e dice scendi, scendi. Io sono sceso, ho visto che la porta era aperta, vedevo l'Italia, quindi avevo un'esperanza di scappare, non ce l'ho fatto, perché non ce la facevo, perché 15 ore non riuscivo a muovermi, ero immobile. Quindi mi hanno preso, mi hanno portato dentro una istanza, che dalla finestra io guardavo l'Italia, dicevo bellissima, magari ho un'altra speranza per tornare in Italia. Quindi vedevo questa scritta, anche di notte facevo troppo freddo, ho preso questa aspirapolvere, il filo di aspirapolvere, rotolando per terra, per non sentirmi freddo. Ho messo sopra questo filo, mi sono addormentato, finché arrivare in Grecia. Avevo anche fame. Quindi, di nuovo, seconda tappa della patra sotto il camion, mi sono infilato insieme a un altro amico, Khalid, che è durato un viaggio 24 ore a Venezia. Quando siamo usciti da Venezia, il camion andava 80-90 km all'ora su autostrada, io mi sentivo male. Poi a un certo punto è arrivata al semaforo, per fortuna, c'era una ragazza che è vicino al semaforo, abbiamo gridato, abbiamo chiamato questa ragazza, e la ragazza ha detto all'autista che sotto il camion ci stanno delle persone. L'autista ha attraversato il semaforo, ha accostato, a un certo punto mio amico subito è uscito, e io è rimasto sotto. Il camion di nuovo è partito, perché lui pensava che c'era solo una persona, invece mancava qualche centimetro che mi schiacciasse il camion. Quando il camionista è uscito, mi ha visto proprio che stavo vicino alle ruote, pensavo che io sono morto, si è strellata, gridata, poi sono riuscito a muovermi, mi hanno tirato fuori. Quindi hanno chiamato l'ambulanza, mi hanno portato in ospitale. Quando mi hanno portato in ospitale, insieme a mio amico, poi siamo andati a Venezia centrale a prendere il biglietto per tornare a Roma. Quindi eravamo sporchi di olio, vergognavamo dentro il treno, perché non eravamo sporchi, magari a 24 ore, anche puzza di olio, tutto quello. Eravamo sul corredoio, non entravamo dentro la stanza, dentro vicino agli altri, e poi quando siamo arrivati a Roma, mi hanno accolto alcuni centri di accoglienza, ho continuato il mio percorso di studio, grazie anche ad alcune persone che mi sono state vicine, che mi hanno dato coraggio per andare avanti. Ho voluto anche scrivere questo libro per ricordare che questa possa essere, la mia esperienza, possa essere un messaggio di speranza per altri ragazzi, che spesso noi magari non apprezziamo ciò che abbiamo, bisogna apprezzare quello che abbiamo. Non è facile per arrivare a un obiettivo, per raggiungere un obiettivo, bisogna essere sempre forte e sollevarsi dalle cadute che ci può nella vita. E per ricordarci che dopo il tunnel oscuro è pieno di solitudine, arrivano le cose molto belle. Secondo me non esiste un bene se non passa il male. Io ho sempre creduto che una persona forte sa come mantenere la sua vita in ordine, anche con una lacrime negli occhi. Per me non è stata facile continuare a scuola, non avere soldi in tasca, i miei amici che mi prendevano in giro perché io studio, perché non uscivano con me perché io non avevo soldi. Però io ho continuato la mia strada anche senza avere uno in tasca, però sono riuscito a raggiungere quello che ho potuto. Quindi anche conoscendo Francesco che questa realtà è stata scritta su questo libro, è una storia vera. Quindi questo è il mio messaggio per altri ragazzi, che bisogna apprezzare ciò che anche dei parenti, dei amici. Io spesso quando tornavo da scuola non apprezzavo che mia madre cucinava, si preparava. Quindi dopo che ho perso ho capito la loro importanza, ho affrontato tutto da solo. Anche quando c'era mio fratello, io spesso litigavo, discudevo. Ogni cosa che lui mi diceva per me non stava bene. Dicevo sempre tu mi rompi, no, perché non mi lasci in pace? E spesso questo che succede, come adesso, magari se qualcuno ti dà consiglio pensa che ti rompe troppo. Invece no, qualcuno che ti dà un consiglio perché ti vuole bene. Mio fratello sempre mi diceva non devo litigare con le persone, non devo discutere. Io dico no perché se mi dicono qualcosa che faccio, guardo in faccia. No. Invece, tutto questo bisogna affrontarlo, bisogna superarlo, anche se sei nel momento difficile. quindi io sono contentissimo di essere qui a condividere questa vera storia insieme a voi. Spero che questo sarà un messaggio per tutti, coloro che non hanno speranza. Bisogna essere forte, bisogna dare coraggio nella vita. Grazie. Grazie. Applausi. Grazie. 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 Grazie.